Ci hanno appena spiegato in questo Terracconia che, secondo una tradizione turca, quando una persona amata se ne va, fa un viaggio, va via, buttano dietro di lei dell'acqua in modo che arrivi alla sua anima e siccome l'acqua viene assorbita in maniera velocissima, questo vuol dire che è un auguro, è un auspicio a che quella persona amata torni il più presto possibile. Sebel, sboggiare a quel rito, anche l'ho spiegato prima, di tirarci intorno all'acqua per auspicio in modo da poter tornare presto, è una porta fortuna, secondo la tradizione turca. Nice to meet you, have a nice trip, take care of yourselves, have a nice trip, be yourself, queste sono le cose di viaggiare queste sono le cose che mi fanno comprare è già la seconda volta è già la seconda volta è già la seconda volta è già la seconda volta